Vincere inizia a diventare una necessità per il teramo del presidente Chierchia. La venticinquesima giornata pone i bianco-rossi di fronte alla mina vagante lucchese, ad oggi l'ultima squadra della griglia play-off del girone. Mister Guidi cambia e passa al 3-4-3 con Azios Manovic e il rientrante Bua sugli esterni e il trio Cisco, D'Andrea e Rosso, in avanti. Toscani che si affidano a Belloni alle spalle di Semprini e Nanni in prima linea, 12 gol in tre fin qui. In panchina, l'ex Lazio Minala. Si accende subito Nanni, che riceve sul filo del fuorigioco in aria e conclude dal centro-sinistra. Peruchini vola e disinnesca. Il primo graffio del diavolo è letale. Minuto 6. Cross proveniente dalla sinistra dopo una rimessa laterale, libera la difesa ospite, sui piedi di Roberto Kodromatz, che aggancia e scarica rasoterra verso l'angolo lontano, un fendente imprentibile per il portiere. Per il difensore, primo gol in maglia bianco-rossa, il secondo in questa Serie C, dopo quello segnato in Piacenza-Prosesto del 17 ottobre. Al decimo, vicini al bis, i locali, con Christian Aziosmanovic, che controlla in aria dopo un cross da destra e cerca il palo lontano, mancando di poco il bersaglio. Lucchese, che si rivede al 23esimo con un tiro al volo di Bacchini alle stelle. Al 37esimo esce nuovamente dal guscio la squadra di Pagliuca, con Corsinelli che aggancia al limite dopo un'azione insistita dei suoi e conclude tra le braccia di un attento peruchini. Gli ultimi minuti della prima frazione scivolano via senza altri sussulti di rilievo e l'intervallo ha un sapore dolce, dolcissimo, per la truppa di Guidi, a segno per la sesta volta entro i primi dieci minuti. Nella ripresa, Cisco punta l'uomo sul centro-sinistra e scarica basso, Coletta, chiamato agli straordinari, ribatte e scongiura il bis abruzzese. Dopo una serie di azioni interessanti da ambo i lati, chi ha il pallone più caldo è la Lucchese, contropiede di Frigerio che trova sul palo lontano il liberissimo Visconti, ma il numero 3 si fa spaventare dalla presenza di peruchini e manda clamorosamente sul fondo. Al 32esimo altro squillo toscano, Semprini si sposta sulla sinistra e manda in porta Ubaldi, che attende, si defila, calciando sull'esterno della rete. A dieci minuti dal termine, altrettanto ghiotta e la chance per il Teramo. D'Andrea scappa sulla destra e crossa, Coletta scaccia via, capitana Rigoni Arpiona e scaglia a mezz'aria. Ancora ottima l'opposizione del portiere classe 92. Finale acceso, infuocato. Codromaz già ammonito mette giù un avversario al limite, pronto ad arrivare a tu per tu con peruchini e il signor Zanotti non può far altro che sperlerlo. Sul piazzato seguente, Semprini alza troppo la mira. Finisce così 1-0, con la seconda vittoria del Diavolo nel 2022, confermando anche il clean sheet di Pesaro e riscattando i KO di Immola e Siena. Con le unghie e con i denti, rischiando qualcosina di troppo nella ripresa, il Teramo lascia la zona play-out e sale a quota 25. Ora la trasferta di Viterbo, la quarta del nuovo anno solare, per dare continuità e mettere altri punti di platino nella corsa alla salvezza.